La signora Florinda finalmente oggi torna a casa, il 31 marzo. Signora Florinda, quando è entrata nell'ospedale di Agropoli? Due mesi fa. Era il giorno? Si ricorda che giorno era? Mi ricordo solo che sono due mesi, ma non mi ricordo. Il 13 febbraio, me lo dico io, signora. Come stava? Stava molto male? Io stavo malissimo. Veramente sono stati medici, infermieri, bravissimi, accoglienti. Veramente anche le persone delle polizie sono bravissime. Io nella fortuna che ho preso il virus ho avuto la fortuna di provare un ospedale accogliente. Oggi dove torna? Dove vive signora Florinda? Dove sono? Di dove siete? Dove andate? Di Nocera. Di Nocera. Chi vi aspetta? Mio marito. Come si chiama vostro marito? Pasquale, è mia amicurola. Bene. Siete contenta di tornare a casa? Sì, dopo due mesi sì. L'avete sconfitto il coronavirus? Sì, sì, sì. Lo potete raccontare? Sì. Noi siamo contenti, vi salutiamo tutti, infermieri, medici, tutti quelli che vi hanno assistito, operatori sanitari. E come ha detto lei, anche la signora delle polizie che vi hanno reso confortevole la vostra stanza e il luogo dove siete state. Sì. Arrivederci e buon ritorno a casa e buona Pasqua. E grazie, grazie a tutti. Un bacione a tutti. Signora, grazie a tutti. Invermieri, medici, a tutti. Siete stati bravissimi. Andate un bel bacio a tutti, signora Florinda. Sì, sì, sempre con me. Sì, sempre con me. Grazie, signora di medici. Finalmente! Aspè, Florinda! Chi è questo? Pasquale, chi sei? Presentati. Pasquale. Pasquale, Florinda è uscita viva dal Covid per te. Perché pensavo tutti i giorni a te. Come dice Pasquale mio? Come fa a stare senza? Senza maggiore. Ma come senza maggiore? Senza di me! Dobbiamo aprire la macchina? Sì. E' coppa, no? Sei contenta, Florinda? Vi sto poi qua. Contentissimo! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!